vabbè dai vado a casuale basta prego completo l'acquisto oddio 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 raga tappatevi le orecchie tappatevi le orecchie con le cuffie non ci credo no no ti giuro non lo fa ti giuro ti giuro ti giuro ti scrino che non l'ho cioè è incredibile ok grazie ringraziamo guarda grazie per l'abbonamento raga ma chi ma chi ringrazia me o la selezione casuale di twitch